Gli agenti della Polizia Locale di Pordenone tornano tra i banchi di scuola per affinare le tecniche di guida in sicurezza e continuare a garantire un servizio efficiente ai cittadini. Provenienti anche dal Comando di Udine, gli agenti hanno frequentato lezioni teoriche e pratiche affidandosi a tecnici ed esperti del settore. Il corso si è svolto presso il Comando di Polizia Municipale di Pordenone per quanto riguarda la parte teorica e sulla strada per quanto concerne la parte pratica. L'assessore alla sicurezza, Flavio Moro. Terminano oggi le prove pratiche e scritte, teoriche, per quanto riguarda il conseguimento della patente per le polizie locali. È una patente specifica che è a seguito di un decreto della Presidenza della Repubblica del 2004 che ha stabilito che le polizie locali debbano conseguire una patente specifica in aggiunta alla patente civile. Questa permette alle polizie locali di utilizzare gli automezzi e in particolare per quanto riguarda l'utilizzo della moto c'è un'ulteriore sessione che riguarda solo alcuni agenti di polizia locale che potranno anche utilizzare l'automezzo, il motociclo, per le attività indirenti alle loro funzioni giornaliere. È una patente similare alla patente civile. È anche uno strumento che permette di fare una formazione specifica alla polizia locale sull'utilizzo degli automezzi che hanno caratteristiche e anche modalità di utilizzo diversi da quelle dell'automezzo civile.